volevo fare un regalo e sono andato su thingverse ho scaricato questo oggetto un oggetto che deve essere mobile che successivamente alla fase di stampa io lo stacco dal piano e poi all'interno vedete che ci sono due perni e questi perni potranno essere mossi in modo da poter mettere in piedi o poter far muovere questa alpaca ora vediamo come stampare in genere gli oggetti che dentro poi si devono muovere ho stampato un mio cliente ha stampato un mulettino e questo mulettino qua anche aveva le ruote mobili e la prima volta ha fatto molto molta fatica a sbloccare le ruote come mai perché all'interno c'erano dei filetti e qua è facile che all'interno si formino dei filetti quindi io cosa faccio vado come sempre stiamo facendo su gestione profili vado sul mio profilo prova lo duplico sempre e lo chiamo 0 4 0 5 scusate trattino oggetto mobile ok chiudo seleziono sempre il mio profilo prima di cominciare elimino carico tutti i parametri che che c'erano nel mio prova e ora vado a modificarli 1 a 1 questo oggetto quindi non sempre dovrà essere realizzato così cioè un oggetto mobile non sempre dovrà essere realizzato con tutti questi parametri per esempio il riempimento può variare il riempimento può variare perché se stampo un oggetto mobile più grosso o se dovessi stampare questo oggetto più grosso probabilmente il riempimento dovrei ridurlo in questo caso l'oggetto è piccolo quindi il riempimento lo farò medio alto cominciamo quindi con i parametri da impostare io consiglio di utilizzare un'altezza dello strato 0.1 o 0.15 ancora meglio così è un valore intermedio l'altezza dello stato iniziale la lasciamo sempre quella e passiamo al guscio alle pareti e allo stato superiore ed inferiore vado abbastanza spedito se non sapete cosa sono questi parametri qua andatevi a vedere i corsi che ho fatto precedentemente parto con le spessori delle pareti in questo caso utilizzo uno spessore delle pareti 0.4 come mai perché ci sono dei piccoli punti in cui probabilmente l'oggetto sbaverà e quindi cerco di ridurre al massimo il movimento circolare sopra queste punte strato superiore e inferiore lavorando con un riempimento medio alto lascio 0.8 e 0.8 ancora meglio potrei usare 0.9 e 0.9 perché sto lavorando con una qualità un'altezza del layer 0.15 quindi so che sono sei strati configurazione dello strato superiore inferiore ricordo io lascio sempre linea perché mi trovo molto bene e pareti esterne prima di quelle interne per il profilo che stiamo facendo è indifferente per questo oggetto però posso fare prima le pareti esterne e poi quelle interne vado nella configurazione del riempimento ricordo questo qua è un oggetto mobile sarebbe bene poi chiamarlo oggetto mobile medio piccolo dopo lo rinominerò dopo farò un altro profilo oggetto mobile grosso in cui userò un riempimento minore la densità di riempimento in questo caso lo utilizzo al 75 per cento come mai il 75 per cento sempre perché non è un oggetto troppo grosso ma non lo voglio neanche troppo leggero perché voglio che la persona a cui lo regalo non lo spacchi il bambino poi la configurazione del riempimento la lascio a griglia perché mi piace molto così posso anche variarla vedete un po voi per il profilo che stiamo facendo non ha importanza fasi di riempimento graduale lo voglio tutto uguale senza che il riempimento vari man mano che sale il riempimento prima delle pareti mi chiede se devo fare il riempimento prima delle pareti sì faccio il riempimento prima delle pareti perché ci sono punti a sbalzo tipo questa parte qua vediamo la fase successiva cioè il materiale ho già impostato PLA basic comunque la temperatura di stampa anche se l'impostazione del PLA basic è 2.10 voglio ridurla un po come mai e qui entra in gioco il fattore dell'oggetto mobile perché più bassa tengo la temperatura e più sono sicuro che il mio oggetto all'interno non abbia filettini e non si saldi il punto di rotazione contro il mio corpo quindi uso 195 e o 190 vedete un po la stampante che state usando temperatura di stampa dello strato iniziale la lascio sempre alta e la temperatura di stampa dello strato finale la porto 195 l'avevo modificata una volta perché avevo impostato il profilo per un oggetto che sopra doveva chiudersi bene ed era un oggetto vuoto il diametro del filamento ricordo rimane sempre quello perché utilizzo sempre 1.75 e il flusso entra sempre in gioco qua il fatto dell'oggetto mobile lavoro con un flusso molto basso molto basso finché ovviamente tutta la mia parete esterna esce bene utilizzo un flusso 92 abilito la ritrazione sì e porto la ritrazione a 7.5 lavoro in genere a 7 ma in questo caso sempre perché un oggetto mobile la porto a 7.5 il motivo è che voglio evitare sempre che si creino dei piccoli filettini qua dove c'è il perno fatto questo chiudo il materiale e vado sulla velocità la velocità di stampa sto lavorando a 0.15 perché è un oggetto mobile medio piccolo quindi lavoro con una velocità di stampa 55 vedete che a seconda della qualità dello strato come ho già detto nello scorso tutorial a seconda dell'altezza dello strato modifico anche la velocità la velocità di riempimento lascio 55 la velocità di stampa dello strato iniziale la porto un po più bassa sempre per vedere come si comporta la stampante durante il mio strato numero 1 la velocità degli spostamenti la alzo la alzo il più possibile io ho delle stampanti con della componentistica media se utilizzate stampanti con componentistica bella tosta tipo la zortrax o tipo le wasp potete alzare magari anche a 150 più veloce lo spostamento e più sicuri sarete che i filettini non si formeranno andiamo sugli spostamenti mi chiede la ritrazione prima della preta esterna in questo caso non la voglio lo z o durante la ritrazione la z o durante la ritrazione in questo caso voglio farlo voglio farlo perché quando si sposta voglio che non passi sopra la mia superficie sempre per rischiare che i filettini sbavino o che la testina quando passa sulla mia parete tiri un po il materiale 0.5 un po eccessivo lavoro sempre a 0.3 chiudo e abilito raffreddamento raffreddamento in questo caso deve essere sempre sempre al massimo e in automatico mi si abilita dopo il primo strato se cambiate la l'altezza dello strato iniziale cambierà anche questo il supporto ricordo in tutti i fili che faccio lascio in tutte le posizioni perché quando vado in visualizzazioni layer voglio che il supporto mi si posizioni cioè voglio vedere il supporto solo se serve l'angolo di sbalzo quello imposto in questo caso non è per questo profilo qua nel senso che il supporto è uno di quei valori come riempimento che può essere variato in base alla geometria dell'oggetto cioè non sempre il supporto deve essere abilitato e non sempre deve essere messo a 55 gradi in questo caso lo abilito a 55 gradi lo voglio a linee sì però mi rendo conto che il mio supporto se zoom zoom è molto molto largo vedete anche perché è al 10 per cento per un oggetto così osetto mobile piccolo medio voglio un supporto un po fitto a linee se in fase di stampa vedete che il vostro supporto si muove quindi ondeggia e sbava potete mettere a griglia e portare al 30 per cento la densità del supporto la distanza z del supporto la voglio a 0 1.5 che è la stessa altezza con cui sto lavorando ho abilitato nel nello scorso tutorial quindi da poco la distanza superiore e distanza inferiore nel senso che ci sono casi in cui posso variare la distanza z del supporto cioè in alto magari la faccio più fine cioè più più attaccato e in basso lo lascio un po più staccato dipende molto dall'oggetto che stiamo stampando la distanza x y lavorando facendo profilo per un oggetto oggetto mobile piccolo medio cosa faccio la porto da 0.7 per non rischiare che il supporto sia inutile fase di riempimento graduale del supporto è utile in genere è un parametro che ho abilitato sempre la scorsa volta ma in questo caso non lo voglio perché supporto è talmente poco che non serve adesione al piano di stampa vediamo bene come fatto questo oggetto dipende sempre ovviamente dalla geometria in questo caso non abilitato niente c'è solo una linea esterna probabilmente lascerò così perché tanto so che questo oggetto non imbarcherà però metto come skirt tre linee tre linee verranno fatte prima che l'oggetto venga stampato mi ripeto molto nel senso che ogni volta che genero un profilo analizzo tutti questi parametri li analizzo perché qualcuno può finire direttamente su questo video qua perché è interessato a stampare un oggetto mobile quindi ogni volta li visiono tutti in questo caso io ho finito come modalità speciale non voglio niente come sperimentale ho abilitato delle cose ma ora non li utilizzo e ho finito il profilo così facendo io ho impostato il mio profilo per un oggetto mobile di piccolo medio formato di conseguenza ora rinomino il mio oggetto mobile piccolo barra medio medio anche perché ho usato riempimento non del 100 per cento ma del 70 per cento chiudo clicco sulla stellina e salvo il mio profilo aggiorno sempre il profilo con le impostazioni di stampa correnti vedete che qua mi si aggiornano chiudo così facendo ho salvato il mio profilo se invece ho un oggetto mobile che non è piccolo barra medio cosa devo fare devo modificare questi parametri qua il riempimento lo voglio al 50 per cento e lo riempio in modo graduale per tre volte che altezza deve avere la fase del mio riempimento graduale vado come ho già fatto sempre negli scorsi tutorial misuro bene il mio oggetto e scopro quanto è è altezza 6 quindi vado a 2 mm so che ogni 2 mm il mio riempimento cambia e si infittisce una cosa che dovrei fare e che non ho fatto è aumentare l'altezza cioè aumentare le dimensioni di questo oggetto prendiamo il caso che come altezza io lo voglio stampare a 15 centimetri clicco su invio il mio oggetto si ingrandisce di molto vado a variare l'altezza della fase di riempimento graduale metto allora se sto lavorando a 15 diviso per 3 quindi in parti 4 ogni 4 mm 40 ora ci metto anch'io la mia pubblicità se una stampante 3d sta imparando o sei già capace a stampare che cosa devi fare ti chiedono un ordine grosso hai difficoltà a realizzarlo con una due o tre stampanti basta che tu vai sul sito di fabula 3d che è la mia azienda siamo tre soci e carichi il file stl o mi scrivi caricando il file mi mandi un link a cui scaricare il file dopo 15 giorni verrà eliminato se mi scrivi chiedi informazioni ti diciamo quanto tempo ci mettiamo ma soprattutto tu ci dai una data noi abbiamo tante stampanti tu prendi una bella provvigione tu prendi una bella provvigione ma soprattutto non butti via al lavoro non butti via al lavoro perché è un peccato dire di no a un'azienda oa una persona che vi sta chiedendo di stampare tanti oggetti stampa 3d nel guardare la visualizzazione dell'iere mi sono accorto che forse il supporto è un po troppo fitto quindi cosa faccio riduco o le fasi all'altezza della fase di riempimento graduale posso portarla a 2 mm in modo che il mio riempimento sarà molto largo sotto e molto fitto sopra vediamo nella visualizzazione dell'iere cosa succede sempre da guardare sempre da guardare perché tante volte non riusciamo ad intuire che cosa succede modificando i parametri scendiamo verso il primo strato vedete che il nostro oggetto visto che è grosso ha un riempimento molto molto largo e salendo anche qua nei punti inclinati il riempimento si infittisce sempre di più vediamo com'è controlliamo sempre quanto pesa sono 116 grammi io direi che questo è il riempimento perfetto stiamo un attimo variando i profili i parametri perché perché l'oggetto prima ho fatto un profilo per oggetto mobile piccolo medio formato in questo caso ora è grosso e quindi un'altra cosa che devo fare qual è andare su qualità e riportare scusatemi andare su guscio e visto che un oggetto grosso riportare le pareti a 0.8 perché tanto adesso la parte alta delle orecchie sarà molto più grossa di prima quindi anche se passa una o due volte in più non è un problema un'altra cosa quindi che va modificata se io ingrandisco l'oggetto è il supporto in questo modo noi abbiamo creato due varianti per lo stesso profilo un'altra cosa da modificare solo perché l'oggetto è diventato più grosso è la distanza xy perché rischio di non staccarlo più visto che sto lavorando a 0.4 potrei metterlo o a 0.8 o a 1 ma lascio 0.8 perché perché c'è una parte a sbalzo che mi preoccupa un po' viste queste cose del supporto c'è una cosa ancora da modificare che è la configurazione del supporto ogni oggetto dovete sempre guardarlo nella visualizzazione layer ed eventualmente anche se utilizzate dei profili modificare qualche parametro perché non è detto che gli oggetti escono sempre bene ogni oggetto fa da sé sto creando questi tutti questi profili anche perché mi aspetto più avanti che qualche azienda che vorrà creare uno slicer suo o che vorrà sviluppare lo slicer di stampa mi contatti mi contatti perché so bene come stampare tutti gli oggetti potrebbe farlo con me potrebbe farlo con voi perché avete stampato veramente tanto avete seguito i miei corsi passiamo comunque al resto come adesione al piano di stampa siccome stiamo creando il profilo quindi di grosso formato fra virgolette abito il brim perché saranno stampe lunghe e rischierei che l'oggetto si stacchi anche se la geometria non è fatta per cioè non è incline a staccarsi duplico prova lo chiamo 0.6 come quello la lo chiamo oggetto mobile per identificare che un oggetto che dopo dovrà muoversi e però grosso effettivamente è un po grosso come oggetto mobile ok chiudo che cosa ho fatto quindi ho impostato prima profilo 0.5 ora 0.6 che è la stessa cosa ma più grosso ricordatevi sempre però prima di fare qualsiasi modifica di selezionare il vostro profilo perché potete salvarlo solo dopo averlo selezionato potete solo salvarci sopra mi raccomando io sempre lo dico a parte questo corso qua che ne abbiamo creati due di fila quindi mi sono dimenticato se questo video ti è stato utile condividilo metti un bel like e sotto lascia un commento per sapere se sono sulla strada giusta o no alla prossima